Alcuni dei patogeni che attaccano le orchidee come questa sono i tripidi. I segnali delle infestazioni da tripidi nelle orchidee sono come in questo caso fiori rovinati, boccioli rovinati che cadono e la presenza di questi insettini minuscoli più frequentemente sulla pagina inferiore delle foglie. Adesso vediamo come combatterli proprio nel caso di questa orchidea. Per prima cosa dobbiamo ahimè tagliare gli steli fiorali al di sopra di uno due nodi dalla base con delle forbici disinfettate. Poi andiamo a pulire bene le foglie con un panno o un pezzo di carta. A questo punto interveniamo con il sapone molle. Io uso questo di cifo pronto all'uso davvero molto comodo. Questa è la scelta biologica migliore nel rispetto degli insetti buoni e anche considerando che stiamo spruzzando in casa. Ripetiamo il trattamento ogni 7-10 giorni per circa un mesetto perché i tripidi possono impiegare anche un mese a passare da uovo ad adulto.